Vittoria di cuore, vittoria di carattere, vittoria di guerriero. Sì, è stata una vittoria importante, la volevamo tanto, volevamo farci questo regalo di Natale. Abbiamo fatto un primo tempo buonissimo secondo me, abbiamo pressato tantissimo, pressato alto, abbiamo impedito di giocare, poi siamo calati un po' nel secondo tempo, ma l'abbiamo portata a casa di cuore, abbiamo difeso fino all'ultimo minuto e siamo contenti. In tanti chiedevano carattere, tra domenica e oggi avete dimostrato di averlo. Assolutamente, assolutamente. Volevamo, come ho già detto, tanto questa vittoria, poi abbiamo già ragione perché non avevamo ancora vinto in trasferta e per questo abbiamo dimostrato di avere carattere. In nove partite ti abbiamo visto come terzino destro, come terzino sinistro, come mezzala, oggi punta esterna alle squadre di Colombi. Come ti trovi? No, io sono contento, gioco dove c'è bisogno, poi fortunatamente riesco a fare più ruoli e ti dico da esterno alto mi trovo molto bene, però dove c'è bisogno gioco, terzino, mezzala. Oggi quasi gol, vabbè che hai sbagliato a crossare, ne? Sì, sì. Ah, almeno l'ammetti, dai. Non dico, ho sbagliato a crossare. Auguri. Grazie.